Sì da quando ci svegliamo ogni nostra giornata è ricca di emozioni dalle piccole cose che ci circondano a una bella giornata a un messaggio inaspettato a un ricordo a un sapore che ci porta indietro nel tempo o addirittura a un film che ci fa commuovere Ogni giornata porta con sé molte emozioni ma tre sono quelle che più mi colpiscono nel profondo Condividere i momenti importanti con le persone a cui voglio bene amici famiglia e amore Entrare in un mondo tutto mio attraverso il potere della musica E infine esprimere me stessa dando libero sfogo alla creatività Ed è proprio per questo che Tempo mi ha lanciato una sfida in occasione dell'uscita dei nuovi design Tempo Box Realizzati ad hoc da Piccione Piccione, brand del designer Salvatore Piccione in collaborazione con Vogue Talents In questa sfida dovrò realizzare un make up che si ispiri alla mia box, Spice Storm E questo è il mio look ispirato alla box Tempo A fine video nell'info box troverete gli altri make up ispirati agli altri design delle altre Tempo Box Io spero di cuore che il video vi sia piaciuto e ricordate, custodite in voi ogni piccola emozione